Parata di Matteo d'Ottavio, sempre 1-0 a nostro favore, ha realizzato Cristian Nasuti in questo secondo tempo, 1-0 a nostro favore, un primo tempo giocato bene, giocato alla grande dai nostri ragazzi, ovviamente la Valle Aventino non ci sta e adesso c'è un po' vivacizzato il gioco. Ah, Parata del Portiere, ha respinto proprio distinto. Buona fede, buona fede, va bene! Sempre 1-0 a nostro favore qua il comunale di Fara San Martino. Siamo con 200 per 1-0, ovviamente un gol non basta per essere sicuri, in quanto la Valle Aventino è sempre pericolosa, ecco come adesso sta ripartendo con un contropiede, un contropiede, il portiere locale ha sfoderato due o tre interventi, anche adesso ha sfoderato distinto, proprio a porta sicura di Teddy Mata. ecco Cristian Nasuti. C'è un campio dalla panchina della Valle Aventino. 1-0 a favore, a nostro favore in questa prima parte del secondo tempo. Qua al comunale di Fara San Martino, Valle Aventino 0, Virtus Castelfrentano 1. una partita, una gara importante. Grazie a tutti!